Bella ragazzi e benvenuti anche oggi con un nuovo video ragazzi faccio questo video per avvisarvi che è uscito sullo shop il nuovo pacchetto andiamo a vederlo Eccoci qua ragazzi il pacchetto sfida Dynamo Derby è appena uscito nello shop andiamo a vederlo Intanto vi invito a mettere un bel mi piace e se siete nuovi ragazzi l'iscrizione al canale mi raccomando andiamo per gli 80.000 iscritti Se vi iscrivete ora scrivete Derby nei commenti Ok andiamo a vederlo ragazzi 11 euro anzi 12 11 euro e 99 Sferenza tra gli avversari con il pacchetto sfida Dynamo Derby ottiene il costume Dynamo Derby con emote integrata quindi ha un emote personale Poi raga abbiamo il dorso decorativo pattino portatile e completa le sfide rapide per ottenere 1500 V-Bucks Non male ragazzi andiamo a vederlo raga Allora questa è la skin Dynamo Derby molto carina devo dire anche molto try harder Più bello allora vediamo gli stili c'è lo stile predefinito Poi ragazzi abbiamo lo stile Dynamo Piperita Preferisco quello normale a questo E lo stile Dynamo Fiammante Uuuuh e questo è tipo da diavolessa I miei preferiti sono il primo e l'ultimo ma se devo dire ragazzi il mio preferito è assolutamente il primo molto molto bella comunque Provaci a metterla in panchina Eccola qui del set re della pista Adesso vediamo anche l'emote integrata ragazzi abbiamo il dorso decorativo pattino portatile testato in pista e pronto a sfrecciare Stile predefinito Stile pattino portatile menta E lo stile pattino portatile fiammante Eccolo qua C'ho una cazzo di zanzara che prova a mordermi Eccolo qua ragazzi Poi raga abbiamo le sfide e abbiamo l'emote integrata Andiamo a vederla Sui pattini ragazzi Bella però ragazzi è molto spettacolare veramente Che buona tra l'altro E niente questo è il pacchetto ragazzi Fatemi sapere se vi piace nei commenti Tutti il mi piace e l'iscrizione Ragazzi facciamo così Se avete visto il video da noi E vi shoppate il pacchetto col nostro codice creatore Scrivete ti supporto nei commenti Scrivete ti supporto nei commenti Vi ricordo il nostro codice creatore è SUPPORTA Trattino basso VAPM Mettetelo nello shop E shoppate questa skin Questo pacchetto se dovete shopparlo Niente vi aspetto come al solito alle 23 in live Scopriamo anche tutte le sere lo shop insieme Un salutone dal vostro Dio Eros E alla prossima